Abbiamo registrato nelle ultime due settimane, e questo è un dato abbastanza preoccupante, un numero di 3.042 contagi per bambini della fascia di età da 5 a 11 anni. Questo è il dato che riguarda le due settimane dal 26 novembre al 3 dicembre. In queste due settimane la fascia di età che ha avuto più contagi è la fascia 5-11 anni. È un'ulteriore conferma della necessità di avviare la campagna di vaccinazione anche per i bambini più piccoli. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, sappiamo che ci sono state preoccupazioni, dubbi. Credo che tutta la comunità scientifica, i primari del Bambin Gesù, di Roma, del Santo Bono, di altre grandi strutture pediatriche, la società di pediatria, sono tutti quanti concordi nel sollecitare una campagna di vaccinazione per la fascia di età, 5-11 anni, in condizioni di assoluta sicurezza per i nostri bambini. Dal 16 dunque cominciamo questa campagna di vaccinazione, abbiamo un dato molto positivo. Ad oggi si sono registrati per la vaccinazione già 2.000 bambini di questa fascia di età. Credo che avremo, dopo una prima fase di riflessione, anche di incertezza, avremo una campagna di vaccinazione importante anche per questa fascia di età. Poi contiamo ovviamente di utilizzare il periodo festivo, con le scuole chiuse 22 dicembre, inizio gennaio, per avere una campagna di vaccinazione ancora più di massa per quanto riguarda la fascia 5-11 anni.